o ultimo video della settimana tra l'altro settimana che si chiude particolarmente bene con una notizia interessantissima che ho trovato stamani sul web pare ripeto pare che siano aperti i casting per una nuova edizione di ciao darwin notizia onestamente fantastica che spero sia confermata non ho trovato fonti ufficiali per il momento anzi se sapete qualcosa fatemelo sapere comunque detto questo volevo parlare oggi di un episodio che è successo ormai quasi una settimana fa sabato scorso l'anticipo della nona giornata di campionato in serie a in particolare la sfida tra torino e trento partita abbastanza equilibrata si arriva punto a punto sul finale torino è avanti di tre lunghezze maurizio buscaglia coach di trento chiama time out e qui succede l'episodio incriminato nel senso che buscaglia non gestisce in prima persona il time out come sempre fa lui e tutti gli altri allenatori ma fa organizzare il gioco da chiamare alla propria squadra che ha il possesso per andare all'overtime a aaron craft craft lo sappiamo è stato già un anno a trento trento con aaron craft è arrivata in finale poi ora è tornato da qualche settimana è uno dei leader di questa squadra anche segnato il canestro della vittoria proprio all'esordio diciamo il suo ritorno in italia però fatto sta che quest'ultimo gioco l'ha chiamato l'ha disegnato aaron craft si è creata anche una buona soluzione di tiro per trento è arrivata una tripla di beto gomez però la difesa di darinton hobson ha fatto sì che il tiro venisse sbagliato e trento ha perso la partita non è la prima volta che succede un episodio del genere che buscaglia fa gestire ai propri giocatori un time out l'aveva fatto anche qualche settimana fa in coppa stavolta contro lo zenith di san pietroburgo e in quell'occasione trento aveva vinto la partita però mi interessa poco del risultato ok che abbia vinto che abbia aperto mi interessa poco mi interessa l'episodio in sé il gm di trento tra i notti sembra ma non ci sono comunicati ufficiali che non abbia apprezzato più di tanto questa scelta da parte del proprio allenatore maurizio buscaglia io come al solito spoilerone del finale invece sono molto d'accordo con buscaglia ci vuole una premessa la premessa è questa non tutti gli allenatori possono permetterselo perché è una scelta che da un lato da grossa responsabilità ai giocatori cioè li fa sentire veramente parte del progetto parte integrante del progetto e non soltanto passatemi il termine tra virgolette burattini che eseguono un ordine che gli arriva dall'alto ok dall'allenatore però dall'altra parte è un qualche cosa che potrebbe potrebbe andare a minare la rispettabilità dell'allenatore in questo caso cioè l'allenatore per potersi permettere una cosa del genere deve avere un livello di rispetto da parte dei propri ragazzi da parte dei propri giocatori che non tutti gli allenatori riescono ad avere è una questione proprio di avere il polso della squadra cioè un allenatore che fa questo non ha la minima paura di essere in qualche misura screditato da questo suo gesto voglio dire mi viene in mente no una cosa di cui tutti si è parlato e riparlato nel momento in cui lebron james giocava ancora ai calves e capo allenatore in quel momento era tyron lu tanti dicevano sì vabbè però tyron lu è l'allenatore di facciata perché poi in realtà l'allenatore vero della squadra è lebron quindi immaginiamoci se tyron lu avesse fatto anche una cosa di questo genere se ne sarebbe parlato per settimane per mesi del fatto che tyron lu non ha la squadra in mano eccetera eccetera in quel caso tyron lu non poteva permetterselo ma non è una questione di qualità tecniche dell'allenatore non c'entra la bravura dell'allenatore è più un fatto di carisma carisma è la parola fondamentale e mi riconduco per giustificare anche il titolo di questo video a una citazione un'affermazione che diversi anni fa ha fatto un tale di nome larry bird che di carisma un qualche cosa se ne poteva intendere i giornalisti gli chiesero che cosa avrebbe rubato se possibile al suo acerrimo nemico che poi è è stata una storia di nemico amico in realtà però magic johnson e larry bird non ha risposto a magic johnson in video il ball handling la visione di gioco la fantasia no larry bird ha risposto questo il carisma gli bastava entrare in una stanza sorridere a tutti e li aveva tutti nel palmo della mano il carisma e in riferimento a magic johnson io credo che sia assolutamente vero cioè magic johnson è stato uno di quei giocatori non sono tantissimi il cui sguardo bastava per comunicare una posizione di superiorità ma una superiorità legittima legittimata da quello che era proprio il suo talento e il suo carisma era uno dei giocatori è stato uno dei giocatori più carismatici di tutti i tempi per quanto riguarda gli allenatori però questo è ancora più difficile perché se un giocatore è allo stesso livello dei compagni per quanto magari possa essere una star ok è il miglior giocatore della squadra l'allenatore parte da una posizione differente da un gradino superiore per cui permettere una cosa del genere di gestire un time out ai propri giocatori potrebbe svilire in un certo senso il proprio ruolo ci sono stati due allenatori in particolare torniamo nel mondo della nba che l'hanno fatto o sono soliti farlo in determinate circostanze entrambi gli allenatori provengono ovviamente dalla stessa scuola uno dei due è steve kerr che l'ha fatto anche nella passata stagione in quel caso fu in particolare mi viene in mente una partita contro phoenix in cui i warriors erano avanti di tipo 40 punti e kerr ha fatto gestire il time out ai suoi giocatori in quel caso è stato diciamo la scelta del dell'allenatore è arrivata perché la partita era tutto sommato finita e quindi ha deciso di richiamare l'attenzione dei propri giocatori con un gesto insolito a volte viene scelta viene scelto di fare questa cosa per dare una scossa emotiva per in un certo senso prendere i giocatori e dirgli oh ok ci siamo siamo avanti di 40 però vi voglio svegli vi voglio attivi è un qualche cosa fuori dagli schemi che può servire anche per questo l'altro allenatore che l'ha fatto e lo fa spesso è proprio il mentore di steve kerr ossia greg popovic popovic spesso l'ha usato in un senso opposto l'ha usato quando è stato particolarmente come dire irritato chiamiamola così nei confronti dei propri giocatori ed è quando lo usa popovic in questo senso un gesto plateale quello dell'allontanarsi dal time out lasciare i giocatori al proprio destino che si autogestiscano il time out che serve a popovic per sottolineare ai suoi ragazzi guardate che non è che sono leggermente arrabbiato con voi avete superato il limite ok dovete rimettervi in carreggiata per cui può essere usato questo gesto in due sensi come l'ha usato steve kerr come lo usa tendenzialmente greg popovic ci può essere anche un terzo che secondo me è il senso in cui l'ha usato maurizio buscaglia in quell'occasione ossia siamo di fronte a una partita importante ce la possiamo gestire all'ultimo possesso io ho piena fiducia in voi ragazzi e quindi vi lascio organizzare questa azione chiaramente non è una cosa che un allenatore può fare sempre perché se no veramente viene meno il proprio ruolo di allenatore però io non la condanno nel momento in cui l'allenatore se la può permettere e buscaglia secondo me se la può permettere in italia mi vengono mi viene in mente lui e forse meo sacchetti sono i due unici secondo me che per carisma possono permettersi una cosa del genere e non sto dicendo che gli altri allenatori siano inferiori dal punto di vista tecnico anzi in italia abbiamo una delle migliori scuole di allenatori di tutta europa ma forse forse anche più in là non è un caso che ogni anno le squadre della massima serie per la stragrande maggioranza dei casi scelgono un allenatore italiano non è che pianigiani de raffaele caia vitucci siano inferiori a buscaglia o sacchetti a livello tecnico anzi pianigiani è un mostro a livello tecnico di preparazione della partita per esempio però hanno una posizione che li pone rispetto ai propri ragazzi che è un tantino differente quindi morale della favola io non condanno il gesto di maurizio buscaglia perché secondo me buscaglia se lo può permettere ci vediamo lunedì ciao 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 ciao